questo video è registrato prima di cremonese salernitana la cremonese incontra i campani nell'ultima partita di serie a è l'addio alla categoria è un momento triste eppure io sono convinto che prima o poi rivedremo la serie a cremona meglio prima che poi la partita con la salernitana non conta nulla per la classifica la salernitana è anche più forte della cremonese lo dice la graduatoria stessa io però chiedo alla cremonese impegno questo lo voglio vedere non è importante vincere in questo caso non conta nulla per la classifica e non è detto che la cremonese ci riesca neanche impegnandosi al massimo incontra un avversario più forte ma provarci al massimo delle proprie capacità questo lo pretendo voglio una cremonese battagliera poi il risultato lo accetterò se vedrò una cremonese battagliera detto questo la mia preoccupazione è tutta orientata al futuro la cremonese in questo momento deve progettare la nuova stagione ha fatto un passo almeno un passo nella direzione giusta prenotare il ritiro e annunciarlo in tempi rapidi si va a peio questa è una notizia positiva trentino giusto però io sono preoccupato e parecchio ballardini ha fatto delle dichiarazioni nelle conferenze stampa di queste settimane e ha fatto capire chiaramente lui ha un anno di contratto ancora ma sta chiacchierando con la società sta dialogando con la società sta avanzando delle richieste vuole delle garanzie non di tipo economico economico la cremonese non ha problemi economici ma tecniche vuole una squadra costruita in una certa maniera io dico questa mi prendo la responsabilità di quello che dico che a gennaio secondo me ballardini non è stato accontentato nelle sue richieste di mercato evidentemente vuole delle garanzie e anche le frasi che ha pronunciato in conferenza stampa su fatto che la società deve strutturarsi in tutti i settori io sono convinto che ballardini voglia un salto di qualità della cremonese nella gestione di una squadra che non è stata costruita bene l'anno scorso è una mia interpretazione delle sue parole ovviamente lui non l'ha detto apertamente non potrebbe neanche dire io credo che la cremonese debba confermare ballardini ballardini è un attore che quando è arrivato ha trovato una situazione difficilissima una squadra non all'altezza della serie a è stato bravo nel tenere unito il gruppo poteva sfilacciarsi ci ha riportato quasi in corsa abbiamo sperato ha tenuto una media punti che sarebbe da salvezza ha commesso i suoi errori e non io non voglio non ho mancato di fargli notare quelli che io ritengo essere stati su errori questo per far capire che io non guardo in faccia nessuno mi ricordo quando ha scattato picche l'esterno era abbastanza arrabbiato però la valutazione complessiva è molto buona è una persona educata è una persona alla mano si comporta in modo assolutamente umile mi piace come persona è una persona che fa bene all'immagine della cremonese e secondo me ballardini è da confermare tutta la vita io poi l'ho già detto tante volte confermerei anche il gruppo storico ci sono giocatori che in serie a possono non essere riusciti a raggiungere l'obiettivo della salvezza non ci hanno portato la salvezza in serie a ma hanno costruito il percorso della cremonese in questi anni portandoci serie a insieme a sono quelli che se la sono cavata meglio gente come ciofani e sfido chiunque nonostante la sua carta identità lo sappiamo che ha una certa età per fare una battuta sfido chiunque a critichere il campionato di ciofani ha fatto otto gol è un leader carismatico della squadra non parla mai a caso gestisce lo spogliatoio per me da tenere perfino se dovesse far fatica l'anno prossimo perché quello che ti dà anche fuori dal campo è molto importante e ci vuole una figura così in squadra castagnanti per me da essere un leader in serie b ci sono giocatori che sicuramente avranno offerte e probabilmente andranno via valeri ser nicola se non dovesse davvero offerte per assurdo essere da tenere tutta la vita secondo me buon aiuto un giocatore che in b va benissimo anche se in a ha fatto fatica bianchetti in a è stato disastroso io non ho problemi io dico le cose come stanno ma in b sono convinto che farebbe il suo come l'ha fatto in precedenza valzania che gli rientro siccome è un giocatore su cui bisogna puntare e poi al di là del valore dei singoli giocatori c'è una cosa che ho imparato che rivoluzionare tutto ripartendo da zero è molto difficile tu devi avere una base una struttura e la cremonese secondo me ce l'ha una struttura competitiva quantomeno e deve ripartire da quella l'impressione è che baladini non sarà accontentato nelle sue richieste e che la cremonese non voglia rinnovare questo parco di giocatori sono voci di mercato e possono essere smentite domani sappiamo benissimo come funziona anche perché le decisioni non sono ancora state prese questo non toglie che le prime voci di mercato che ho sentito sono per me allarmanti vediamo se la cremonese confermerà ballardini lo accontenterà se confermerà questi giocatori brava cremonese lo dico subito se non lo farà io sono preoccupatissimo la considero un errore anzi se non dovesse se non dovesse esserci la conferma di ballardini del gruppo storico per me siamo quasi una scelta quasi folle da un certo punto di vista quindi sono francamente preoccupato vediamo cosa succederà lo sapete io non ho lesinato contestazioni a giacchetta il nostro giornale ha preso posizione duramente ha chiesto anche le dimissioni anche armenia che ha difeso l'operato di giacchetta e siamo su queste posizioni quindi non ho molta fiducia spero che sul campo mi smentiscano facendo le scelte giuste e ricostraendo una grande cremonese io da cremonese spero di poter raccontare una cremonese vincente l'anno prossimo mi piacerebbe poter dire bravi giacchetta armenia eccetera però al momento devo bocciare il loro lavoro e sono preoccupato per quello che arriverà peraltro non sono l'unico perché quando cammino per le strade della città io trovo veramente tanta gente che mi ferma per dirmi che è d'accordo nel valutare negativamente l'operato di giacchetta quindi di sicuro non è un'opinione isolata vedremo diciamo che è presto per trarre valutazioni ma io sono già un pochino preoccupato dai primi movimenti che sembrano esserci secondo me la chiave comunque rimane ballardini da quello che verrà deciso su ballardini già capiremo tante cose io non vorrei rivedere un deja vu con l'addio di pecchia dell'anno scorso che secondo me adesso è chiaro a tanti all'inizio non si capiva non vorrei rivedere la stessa cosa con ballardini ragazzi per il la cremonese balla per me deve essere il primo pilastro credo aver detto tutto la cremonese domani gioca con la salernitana speriamo che vinca perché vincere fa sempre bene ma io guardo al futuro ciao